Grazie in primo luogo, grazie per questo invito, veramente non è un gesto di circostanza ma è un ringraziamento sentito perché questa è una preziosissima occasione per allargare gli orizzonti di un ragionamento giuridico che ha troppo spesso una connotazione locale che paga troppo spesso pegno all'esigenza di dover dare tutela sempre più celere a molteplici e crescenti istanze richieste di giustizia a dispetto di un diritto del lavoro che è sempre più complesso, che è sempre più nuovo, che è sempre meno consolidato e che sia sempre meno consolidato, credo che un'idea l'abbiano data molto chiaramente i colleghi che mi hanno preceduto in questa giornata di riflessione L'articolo 4 è sicuramente uno degli aspetti più interessanti o quantomeno più urgenti della disciplina del Job Act insieme alla riforma del 2103 sulle mansioni perché è quella norma di immediato attuale impatto sulla gestione e sulla vita delle aziende, sulla gestione e sulla vita dei rapporti di lavoro complessivamente intesi Beh da dire che al vecchio legislatore dell'articolo 4 era stato spesso attribuito il merito di aver creato una norma resistente agli effetti del tempo al mutevole estrinsecarsi dei rapporti di lavoro giuridico, al diverso sentire dei contesti sociopolitici sostanzialmente una sorta di argilla da plasmare attraverso un po' la giurisprudenza ma capace di adeguarsi immutata la forza della tutela a quello che era il progressivo modificarsi della realtà del mondo del lavoro e anche alla progressiva evoluzione tecnologica Chi guardava l'articolo 4 in questa prospettiva è oggi fermamente convinto che col nuovo articolo 4 non sia cambiato assolutamente nulla e cioè che ci ritroviamo la norma di ieri semplicemente con una formalizzazione, una precisazione se vogliamo di quelli che erano i confini, i concetti, gli effetti di una norma che però così com'era sostanzialmente resta ma è difficile condividere pienamente in senso assoluto questa prospettiva sicuramente l'articolo 4 non è stata una norma statica, sicuramente non è stata una norma legata al suo tempo però è difficile affermare che partecipi di questo, che abbia partecipato di questo dinamismo attivo che forse con un po' troppo ottimismo alcuni gli hanno voluto riconoscere d'altronde se ciò fosse stato noi avremmo oggi un panorama giurisprudenziale più che trentennale, coerente e lineare, cioè un panorama giurisprudenziale diciamo del tutto logico rispetto a quello che è stato il progressivo modificarsi delle dinamiche delle relazioni nel mondo del lavoro la progressiva evoluzione tecnologica, l'incidenza dell'evoluzione tecnologica sulla realtà quotidiana del mondo del lavoro così non è, così non è perché la realtà e chi conosce un po' la giurisprudenza in materia lo sa ha dato vita a un panorama giurisprudenziale che non è assolutamente privo di ambiguità e di discontinuità e d'altronde stiamo parlando di una norma che è anteriore di quasi un lusto alla commercializzazione del primo personal computer Olivetti quindi forse che qualcosa dovesse cambiare se dal Commodore 64 siamo passati agli smartphone alla geolocalizzazione, beh ci potevamo arrivare tutti anche senza essere dei giuristi il punto però qual è? che sicuramente noi abbiamo una norma che ha resistito per oltre 40 anni e ha resistito consentendo di garantire tutela ai diritti inviolabili di chi? della persona lavoratore e concentrarsi sul termine persona a mio modo di vedere è essenziale e imprescindibile nell'approcciarsi all'articolo 4 a dispetto della trasformazione del mondo del lavoro vero è tuttavia che questa accelerazione dell'evoluzione tecnologica che abbiamo vissuto soprattutto nell'ultimo decennio ha slatentizzato tutte quelle che erano le ambiguità e i limiti di una norma che era comunque una norma vecchia e allora oggi ci troviamo a domandare se qualcosa allora è effettivamente cambiato con l'introduzione del nuovo articolo 4 o se invece è successo quello che i vecchi ottimisti di prima intendono classificare come un mero lifting apparente a mio modo di vedere ci vuole poco per accorgersi che qualcosa è cambiato perché ce lo diceva poco anzi l'avvocato Gravili il comma 2 dice che oggi gli strumenti di registrazione degli accessi alle presenze si possono usare se non che la giurisprudenza del 2007 non del 1877 ci diceva che in realtà questa cosa non si poteva fare perché la Cassazione riteneva che fosse illegittimo il controllo effettuato attraverso quei badge che registravano l'entrata e l'uscita perché non era solo illegittimo il controllo sulla prestazione ma anche era illegittimo il controllo sulla modalità e la correttezza e quindi sul rispetto dell'orario di lavoro questa sentenza che a mio modo di vedere dei profili criticabili ha generato una reazione sulla quale tra poco ritorneremo però credo che sia di immediato impatto che qualcosa per forza di cose deve essere cambiata quindi oggi cercheremo un attimo di tratteggiare con tutti i limiti del tempo che mi è nemico e quindi mi scuso in anticipo per le mie mancanze spero che le slide potranno poi colmarle in un momento successivo di capire se c'è un cambiamento in che misura c'è stato questo cambiamento con tre premesse metodologiche non ci metteremo a inseguire giurisprudenza ondivaga cercheremo invece di individuare nella giurisprudenza principi, bilanciamenti, valori che potremmo definire la nostra eredità giurisprudenziale e utilizzarla come strumento prezioso per interpretare il nuovo muovo da un pregiudizio, lo confesso subito, sono colpevole il pregiudizio è che a mio modo di vedere c'è un principio che non è in alcun modo eliminabile dalla materia che è quello per cui i controlli debbono mantenere una dimensione umana non esasperata dall'uso delle tecnologie che possono rendere la vigilanza continua e anelastica eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del mondo del lavoro ma questo a mio modo di vedere l'ha detto pure il legislatore delegante non è che il giudice Colosimo si permette di vestire i panni del legislatore che anzi rifugge in ogni occasione è ovvio poi che siccome si tratta delle prime riflessioni su una norma che non ha avuto concreta attuazione stiamo soltanto cercando di ragionare su profili strumenti, profili linee interpretative sicuramente non vi è qui la presunzione di trovare la soluzione di alcunché sintetizzando la domanda è ancora vero che il nuovo articolo 4 proibisce il controllo intenzionale e diretto del datore di lavoro in quanto in contrasto con la Costituzione quindi in contrasto con i diritti inviolabili della personalità del dipendente beh, per comprenderlo il primo problema da affrontare è quello di definire l'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 4,2 che è a mio modo di vedere la norma cardine del nuovo articolo 4 perché l'articolo 1 l'abbiamo visto poc'anzi adesso ci ritorno il comma 2 dice che il comma 1 non si applica quando agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione e agli strumenti di registrazione di accessi e delle presenze il comma 1 ve l'ha detto l'avvocato Gravili che cosa dice? dice guarda datore che tu puoi utilizzare per quelle finalità lì virgola previa questa cosa qui d'accordo quindi se noi goleggiamo il comma 2 in funzione del comma 1 ci viene di immediata percezione la sua portata tipicamente derogatoria e vabbè, ma qui c'è un grave problema ma deroga che cosa il comma secondo? perché il contenuto precettivo del comma primo è duplice, è mica unico il comma 1 in primo luogo dice al datore di lavoro guarda che tu quei controlli lì li puoi fare esclusivamente per le finalità che ti dico io che sono queste tipizzate quindi crea un vincolo di strumentalità tra il controllo e le finalità che attraverso il controllo si possono raggiungere organizzative produttive sicurezza del lavoro tutela del patrimonio aziendale il presupposto sottinteso fondamentale e essenziale alla tipizzazione delle ipotesi che legittimano il controllo è che è confermato il divieto assoluto dei controlli fine a se stesso ma io non c'è dubbio che quintali di giurisprudenza e di dottrina si soffermeranno su ciò che dalla norma è stato tolto piuttosto che di ciò che nella norma è stato lasciato però se il legislatore tipizza le sole ipotesi in cui ciò è illecito significa che tutte le altre stanno fuori e che per eccellenza stanno fuori quelli che sono fine a se stesso perché non sono strumentali a nulla questo per una ragione di ordine sistematico non dimentichiamoci che l'articolo 4 occupa sempre quel posto lì in quell'impianto complessivo dello statuto dei lavoratori poi perché è evidente che laddove noi ammettessimo di poter venire meno al vincolo di strumentalità renderemmo sostanzialmente privo di contenuto e di portata precettiva il comma primo quindi andremmo a svuotare di qualsiasi senso la tipizzazione legale e peraltro ricordiamoci che il legislatore delegante che sembra un po' il convitato di pietra sempre o il fantasma dietro la tenda aveva detto una cosa ben precisa al nostro legislatore delegato guarda che tu nel fare questa cosa qui mi devi fare un contemperamento tra due interessi fondamentali uno le esigenze dell'azienda due la tutela della dignità della riservatezza del lavoratore ma allora se io devo operare un necessario bilanciamento se devo garantire un ecobilanciamento è evidente che non posso ammettere i controlli fine a se stessi perché sono quanto di più evidente in contrasto con il bilanciamento imposto anche dal legislatore delegante la secondo contenuto precettivo della norma sul secondo contenuto si è soffermata poc'anzi l'avvocato Gravili e cioè ci deve essere un'autorizzazione amministrativa ci deve essere l'accordo e va bene e quindi il comma 2 ci deroga tutti e due i precetti o ci deroga soltanto uno di questi ma io credo francamente che se guardiamo ai principi generali se guardiamo all'eredità giurisprudenziale se guardiamo alla razza della norma non possiamo che ritenere in realtà che la deroga sia esclusivamente una deroga al secondo dei precetti cioè alla preventiva esigenza di un accordo o di un'autorizzazione amministrativa e questo perché? e ce lo siamo detti poc'anzi perché intanto il controllo deve essere mantenuto in una dimensione umana e quindi non può essere fino a se stesso perché se io liberalizzo un controllo fine a se stesso mi scontro a 300 all'ora contro gli articoli 2, 13 e 15 della nostra Costituzione e perché si insisto su questo che l'ho ammesso sin dal principio e il mio pregiudizio io ho un'eredità giurisprudenziale ineliminabile che è quella che mi dice che il controllo fine a se stesso è un qualcosa che non è compatibile con la tutela della dignità e della personalità del lavoratore va bene quindi abbiamo questa possibilità si deroga secondo problema la norma però di cosa ci parla? ci parla nella sua prima parte degli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa tutto facile dice l'avvocato Gravili cellulare GPS autoaziendale tablet va bene problema abbiamo una norma derogatoria e abbiamo una norma che ha il suo nucleo essenziale nell'esigenza di bilanciare interessi e diritti che sono contrapposti e parimenti se non del tutto equiparabili di rango costituzionale quindi è una norma che francamente mi permetterei di dire dovrebbe essere ritenuta norma di stretta interpretazione ma se è una norma di stretta interpretazione quali sono gli strumenti di lavoro? e beh saranno bene solo e esclusivamente gli strumenti oggettivamente necessari per l'esecuzione della prestazione lavorativa e cosa significa che sono scusate ma i lavoratori non hanno sempre solo gli strumenti oggettivamente necessari? e beh no perché quante sono le aziende che appena ti assumono ti danno il tablet ti danno il cellulare ti danno l'auto aziendale ma perché beni necessari all'esecuzione della prestazione di lavoro o perché beni che vanno a integrare il complessivo trattamento economico in via di trattamento di miglior favore e allora ecco che qui si pone un grave problema perché quasi tutti questi strumenti anzi ormai possiamo dire tutti questi strumenti hanno insiti una connaturata potenzialità di controllo e sono tutti strumenti di lavoro guardate che può sembrare una disquisizione di scuola ma invece è fondamentale perché nelle moderne relazioni industriali gli strumenti di lavoro sono quasi tutto a contenuto diretto indiretto informatico quindi hanno quasi tutti una potenzialità di controllo ineliminabile ecco ma gli strumenti che non sono oggettivamente necessari per l'esecuzione della prestazione noi li possiamo ricondurre alla deroga di cui all'articolo al comma 2 dell'articolo dell'articolo 4 cioè è sufficiente la mera consegna da parte del datore di lavoro di un qualsiasi device di un qualsiasi bene di una qualsiasi utilities per far sì che il datore di lavoro con quella roba lì ci possa fare quello che vuole possa controllare il lavoratore beh io non credo che questo sia francamente lo spirito della norma e non credo nemmeno che questo sia il precipitato concreto del vincolo di strumentalità che il tenore letterale del comma 2 ha sicuramente cristallizzato dopodiché è evidente che questo è uno di quei problemi che non potranno che essere risolti nel caso concreto per intenderci l'auto aziendale munita di GPS all'auto aziendale munita di GPS sguardiamo nello stesso modo sia che si tratti del fattorino di UPS sia che si tratti dell'informatore tecnico scientifico che viaggia di su e di giù sia che si tratti del contabile di azienda che vive sette giorni su sette legato a una catena dentro la sede dell'azienda ufficio 72 beh non credo che sia proprio la medesima cosa stessa cosa è il telefono cellulare ma lo trattiamo nello stesso modo sia che si tratti di un prestatore tipo il commerciale che è chiamato normalmente a rendere una prestazione delocalizzata sia che sia stato dato come trattamento di miglior favore al contabile di qui sopra che però ha suo fisso e sul suo fisso riceve normalmente ordinariamente tutte le telefonate di lavoro quindi come credo sia agevole comprendere la materiale consegna di per sé di un bene potrebbe non essere quell'elemento quella caratteristica per distinguere tra ciò che è strumento di lavoro e ciò che non è strumento di lavoro alla luce del tenore letterale del comma 2 ma qual è la necessità di distinguere su questa distinzione su queste due ipotesi e beh ovviamente è la ricaduta della norma perché nelle due l'una se noi riteniamo che tutto ciò che non è oggettivamente necessario per l'esecuzione della prestazione non è uno strumento di lavoro delle due l'una o sta proprio fuori dal comma quarto oppure su quello il datore di lavoro può incidere a condizione di passare dall'autorizzazione o dall'accordo di cui al comma 1 se non che questa seconda opzione cioè di passare dall'accordo o dall'autorizzazione intanto un po' cozza con lo spirito della normativa che come molto correttamente detto l'avvocato dei jobbi è una normativa che vuole semplificare l'esistenza dell'azienda cioè semplificare sostanzialmente la gestione di quelli che sono universalmente riconosciuti come tipici devices di lavoro e dall'altro canto invece ammettere che attraverso quelli che non sono strumenti ma sono un qualcosa di diverso un qualcosa di più non si possa operare un controllo sembra un'impostazione più coerente con quei principi generali che vogliono sostanzialmente che il datore di lavoro non possa procedere a dei controlli fine se stessi non possa incidere sulla vita del lavoratore con strumenti o per modalità che sono estrane alla prestazione ricordiamo non mi soffermo che il controllo sul corretto utilizzo di questi beni è cosa diversa del controllo a distanza del lavoratore d'accordo su questo vi rimando alle slide terzo problema è riflettere sulla potenzialità di controllo connaturate a questi strumenti di lavoro lo abbiamo detto prima qui c'è una intrinseca ineliminabile possibilità di controllo durante l'utilizzo o anche a seguito ex post dopo l'utilizzo c'è un limite invalicabile al comma secondo c'è un limite oltre il quale comunque la deroga non può operare nemmeno quando ci troviamo dinnanzi all'utilizzo dello strumento di lavoro propriamente inteso abbiamo detto che la norma vuole semplificare l'utilizzo di tutte queste cose quindi non ci stiamo neanche a interrogare ma c'è o non c'è l'intrinseca possibilità di controllo perché staremmo veramente a spaccare il capello là dove non serve il punto però qual è? il punto è che sembrerebbe molto interessante riflettere su un sotto insieme e cioè qual è questo sotto insieme? gli strumenti che servono al lavoratore per rendere la prestazione contro gli strumenti che servono al datore di lavoro per controllare la prestazione questa seconda fattispecie guardate che di software ce n'è una marea la realtà la fantasia della realtà supera sempre la fantascienza ricordatevi questo quelli che servono al datore di lavoro dove li mettiamo? e li mettiamo nel comma primo cioè potranno essere utilizzati con il limite delle finalità che sono state tipizzate e con il limite della necessità dell'autorizzazione o dell'accordo questo è una prospettiva che parebbe coerente con l'impianto complessivo della normativa su cui ci stiamo interrogando e allora a mio modo di vedere recuperiamo quella giurisprudenza che ha sempre ritenuto illegittima ecco l'eredità giurisprudenziale che ci accompagna e che a mio modo di vedere continuerà a ritenere illegittima l'installazione di tutti quei software che hanno come unica finalità quella di monitorare che cosa fa il laboratore tempo per tempo oppure ex post o che ha solo la finalità di monitorare per esempio l'impiego che fa di internet piuttosto che non la sua posta elettronica come controllo fino a fine a se stesso abbiamo poi la quarta questione che è stata anticipata dall'avvocato Gravili gli strumenti di registrazione degli accessi delle presenze liberi tutti? io la vedo un po' più complicata non proprio liberi tutti sicuramente questa deroga è una deroga che deve essere posta in relazione al comma primo e quindi siamo ancora a dire è una deroga alla necessità dell'accordo e dell'autorizzazione però c'è un problema il problema qual è? che il comma primo parla di una certa cosa che sono altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori e scusate ma gli strumenti di registrazione tutto sommato un po' ci potrebbe rientrare ma allora qual è la differenza tra il comma primo e il comma secondo? perché capire qual è la differenza tra l'uno e l'altro ci consente di comprendere quando ci sta la deroga e quando invece il datore di lavoro deve fare tutti quei passaggi preliminari sui quali molto correttamente l'avvocato Gravili ha insistito e signori ci sono due modalità di verificare che cosa fa il lavoratore una statica e una dinamica il controllo dell'entrata e dell'ingresso l'orario di ingresso l'orario di uscita è assolutamente statico ma poi ci sono tutta una serie di strumenti che potenzialmente consentono al datore di lavoro di seguire tempo per tempo che cosa fa il lavoratore cioè proprio come l'occhio del grande fratello che lo segue in azienda o fuori dall'azienda con il GPS con l'iPhone con il tablet e quant'altro quello della rilevazione dinamica a mio modo di vedere è un qualcosa che probabilmente appartiene più al comma primo che non al comma secondo perché d'altronde il tenore letterale del comma secondo è ben stretto dice accessi e presenze cioè accesso entrata uscita e presenza fisica là dove sta che peraltro sappiamo essere una problematica che si ricollega anche esigenze di sicurezza sul posto di lavoro sicuramente questa norma è la reazione a quella cassazione che aveva inteso dire che era illegittimo anche il controllo sul rispetto dell'orario rispetto sull'orario non è un controllo a distanza del lavoratore quindi non rientra nel comma nel comma quarto però è evidente che la distinzione tra modalità statica e modalità dinamica del controllo della presenza del lavoratore è invece quella distinzione che vi consente di portare che cosa? portare a differenziare il controllo sulla prestazione e sull'attività dal controllo sul mero rispetto dell'orario di lavoro che deve invece ritenersi ritenersi lecito cosiddetto calato nella realtà è assolutamente complesso perché? perché dobbiamo abbandonare l'idea e la prospettiva del fatto che il controllo il presenza e gli ingressi si controllano soltanto con la vecchia timbratura vecchia modalità perché il problema di oggi qual è? è che nelle nuove dinamiche relazionali nel nuovo mondo ci sono strumenti di lavoro che sono essi stessi strumenti di rilevazione delle presenze di ingresso di uscita pensate semplicemente ai palmari che usano gli omini della logistica per fare il loro lavoro che già si accendono nel momento in cui loro entrano o al computer dell'addetto al call center che registra il suo ingresso al lavoro nel momento esatto in cui inserisce il login per cominciare a lavorare che peraltro registra tutto quello che fa quanto tempo passa in bagno quanto tempo impiega per soffiarsi il naso se è raffreddato quindi è evidente che il precipitato concreto di questa distinzione tra rilevazione statica e rilevazione dinamica creerà molteplici elementi di complessità sulla libertà di controllare il rispetto dell'orario non mi soffermo troverete una slide tutto questo grande capitolo poi ovviamente chiama il problema dei controlli difensivi perché è perché non è che il comma 1 comma 2 comma 3 sono delle monadi ciascuna se ne sta nel suo angolino e non si incontrano mai il capitolo dei controlli difensivi in realtà cala a bomba sul comma 1 e sul comma 2 e sappiamo quali sono le problematiche controllo e monitoraggio archiviazione e salvataggio dati perché perché se abbiamo detto che il comma 1 il comma 2 deroga il comma 1 la peculiarità qual è? che il comma 3 parla dei dati acquisiti nel rispetto dei precetti di cui al comma 1 e al comma 2 quindi è evidente che il capitolo dei controlli difensivi è legato a doppia mandata alla disciplina e alla risoluzione delle problematiche di cui è commi 1 e commi 1 e 2 sotto questo profilo io ritengo che sicuramente ma l'avevo già detto poc'anzi devono ritenersi vietati ancora oggi tutti quei software di puro monitoraggio dell'attività dell'attività del lavoratore quando invece a mio modo di vedere sarà da riflettere sulla possibilità di sopravvivenza di quella giurisprudenza che ammetteva la cosiddetta indagine retrospettiva cioè il controllo esposto sull'utilizzo dei devices e sull'utilizzo di strumenti aziendali quando il datore di lavoro per altre vie che sono sempre severamente valutate poi nel giudizio dal giudice aveva individuato aveva acquisito degli elementi che gli facevano ritenere che quel lavoratore avesse violato tutta una serie di obbligo avesse posto in essere delle condotte delle condotte illecite da questo punto di vista io ritengo che questa disciplina possa sopravvivere e sia destinata a sopravvivere a dispetto dell'esigenza di autorizzazione o di accordo ma perché? perché l'autorizzazione e l'accordo per sua essenza stessa è un qualcosa di preventivo ma se noi ci ritroviamo qui ci ritroviamo nella problematica dell'indagine retrospettiva è perché come dicevo prima la realtà supera sempre la fantasia e vuol dire che il datore di lavoro si sarà trovato a dover accedere a un qualcosa per avere quel lavoratore posto in essere una condotta che ex ante non era assolutamente prevedibile e conseguentemente non era preventivamente disciplinabile vero è però che il nuovo comma terzo ci crea un problema enorme perché il comma terzo attrae espressamente all'articolo 4 tutti i limiti e tutte le regole del codice della privacy ma qual era lo strumento attraverso il quale la giurisprudenza di massima faceva entrare tutto ciò per cui non c'era consenso e lo riteneva utilizzabile nei giudizi pertinenza necessità sufficienza ma soprattutto quell'articolo 24 lettera F che ci diceva che poteva essere effettuato il trattamento senza consenso per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria sempre ovviamente e questi erano i limiti che venivano di volta in volta verificati che tali finalità siano rispettate e che ovviamente si rispettassero quei criteri quei fondamentali principi sui quali si è soffermata l'avvocato Gravili ecco ora però il problema è uno perché se l'articolo 24 prima era la scappatoia a fronte della violazione delle regole sulla privacy e oggi l'articolo 4 ci attrae espressamente ci vincola al rispetto delle regole della privacy potrà la giurisprudenza che si fondava un tempo sull'articolo 24 sopravvivere? Sì o no? Beh questo è un grande interrogativo perché è evidente che l'articolo 24 presuppone proprio il trattamento senza consenso che è la contraddizione in termini di quello che invece ad oggi sembrerebbe previsto dall'ultima parte del comma del comma terzo sicuramente quindi le indagini sui contenuti sugli strumenti informatici continueranno a sollevare grandissime criticità su questo però io desidero prima di andare in conclusione togliermi veramente un sassolino alla scarpa perché tutta questa disciplina la disciplina dell'articolo 4 non deve poi essere sovrapposta con ipotesi e fatti specie che con la stessa non hanno nulla a che vedere e mi riferisco all'abuso che i lavoratori possono fare di strumenti che pur essendo loro materialmente accessibili non hanno nulla a che vedere con l'esecuzione della prestazione e quindi sono sottratti alla loro giuridica disponibilità in tali ipotesi tutte queste ipotesi a mio modo di vedere debbono ritenersi sottratte alla disciplina dell'articolo 4 dello statuto dei lavoratori perché non si può accordare alcuna forma di tutela a chi abusa senza titolo dei beni altrui ora su internet viaggia una mia sentenza che viene definita la sentenza sull'uso improprio di facebook ma quella sentenza c'entra poco con facebook nel senso le contestazioni disciplinarie erano due le offese all'azienda con facebook ma c'era una prima contestazione l'operaio che lavorava la catena di montaggio che durante l'orario di lavoro abbandonava la sua catena di montaggio entrava in un ufficio dove non aveva ragione alcuna di mettere piede si seteva una schivania che non era la sua schivania di lavoro accendeva un computer del quale non doveva per nessuna ragione avere utilizzo di disponibilità e passava qualche ora a visitare il sito casalinghe calde ora voi capite bene che tutte le problematiche che nel caso di special non furono nemmeno in gran parte sollevate relative al controllo a distanza la tutela della riservatezza la tutela dei praves stavano fuori da queste ipotesi perché perché lì c'era un abuso di uno strumento che era sottra peraltro mediante abbandono del posto di lavoro in orario di lavoro della catena di montaggio di uno strumento che era sottratto alla giuridica disponibilità di quel lavoratore concludendo permane il divieto di controlli fini a se stesso su questo nessuno mi farà mai cambiare idea ma d'altronde parlavo anche col professore del punta che l'ha scritta e lui ha detto no no ma noi non intendevamo togliere io gli ho detto vabbè non lo potevate lasciare il comma primo non importa c'è sempre questo costante incontro scontro tra diritti e interessi che hanno rango costituzionale che mi si consenta di dire non sono del tutto equiparabili perché una cosa sono i diritti inviolabili della persona altra cosa sono i diritti di quel 41 della costituzione il primo bilanciamento ce lo dà il legislatore ce lo dà con questa nuova norma che da un certo punto di vista semplifica e chiarisce tante di quelle che erano le ambiguità di ieri e altre tante ambiguità ci dona il secondo passaggio del bilanciamento ovviamente non può che essere quello del caso concreto cioè quello del mandato alla giurisdizione perché purtroppo lo sappiamo che la realtà è un tassello che non si incastra mai nelle cellette delineate dal legislatore è ovvio che nell'interpretare la norma bisognerà sempre tenere bene a mente quella che è la volontà del legislatore e tenere bene a mente altresì quelli che sono i principi costituzionali fondamentali che debbono rappresentare il limite invalicabile dell'applicazione e dell'interpretazione della nuova disciplina Avvocato De Giobbi mi tolgo un ultimo sasso della scarpa poi giuro mi può togliere la voce dal microfono che è la sentenza con cui la Corte di Cassazione ci ha detto che il datore di lavoro può fingersi signorina su Facebook per vedere se il suo dipendente perde tempo durante l'orario di lavoro e quanto tempo passa ma scusatemi ma io voglio dire una pronuncia di questo genere che cosa fa avvalla il comportamento di un datore di lavoro che non si limita a verificare l'eventuale condotta scorretta ma no agisce da agente provocatore istigando addirittura l'inadempienza e lo fa come nella modalità più insidiosa e nella forma più occulta che è quella che consente al datore di lavoro di acquisire informazioni personalissime sul proprio dipendente di catalogarne dati ledendone irrimediabilmente il diritto alla riservatezza la dignità e andando a porre in essere una condotta che si pone in assoluto contrasto per fare semplicemente due nomi l'articolo 8 e l'articolo 15 dello statuto dei lavoratori quindi già la Cassazione ci sta tornando un po' ma auspichiamo veramente che questa sia una pronuncia che rimanga isolata nella sua esistenza e speriamo che la lettura di questa nuova disciplina sia sempre volta a garantire nel precipitato sostanziale il costante rinunciabile equilibrio tra le posizioni soggettive coinvolte che sono anche le posizioni tipiche del rapporto di lavoro perché sappiamo che qui questa è una materia che fa anche scontrare gli obblighi del 2087 con quelli del 2104 e del 2105 qui signori bisogna guardare alla correttezza e alla buona fede bisogna guardare alla correttezza e alla buona fede perché sono le fondamenta del rapporto e quindi debbono essere la base del giudizio sulle patologie e sulle disfunzioni del rapporto bisogna sempre evitare che l'esercizio dei diritti del datore da una parte e la tutela delle posizioni soggettive del lavoratore dall'altra siano una giustificazione prioristica al qualsiasi forma di abuso lasciamo quindi il grande fratello alla tv di bassa lega recuperiamo la portata percettiva dei principi costituzionali e invochiamo il senso di responsabilità della giurisdizione grazie 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 grazie